L'emergenza virus ci ha costretti nelle nostre case e ci ha fatto capire oggi più che mai quanto è importante stare bene nella nostra casa. Ci ha aperto gli occhi su come la casa stessa è fondamentale per il nostro benessere e quindi sull'importanza di avere ambienti sani, protetti da sostanze nocive, luminosi e piacevoli da vivere. Il futuro perciò ci richiede questo impegno, costruire case ed edifici sani e confortevoli utilizzando materiali naturali e in modo eco compatibile. Questa è da tempo la mission della nostra azienda, infatti le nostre soluzioni sono studiate per permettere al mondo dell'edilizia di fare questo importante passo in avanti in termini di efficienza, ecologia e salute. Certo che i materiali da soli non bastano, è necessario che tutta la filiera dell'edilizia si muova in maniera univoca, dal committente al costruttore, passando per il progettista e infine per il produttore di materiali edili. Tutte queste figure devono collaborare verso questo impegno comune, un'edilizia sostenibile che crei vero benessere abitativo. Grazie. 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 Grazie.